Questa sera Venezia.com ha dato il suo piccolo contributo alla gestione dei flussi turistici e posizionando dei cartelli che invitano i turisti a tenere la destra sulle calli più strette della città. Venezia è una città con degli spazi strettissimi e ci sono delle calli che è veramente difficile camminare. Quindi con questo nostro piccolo gesto noi vogliamo invitare i turisti, la massa turistica, a rispettare queste piccole regole non scritte in modo che la circolazione fluisca in modo regolare. Venezia può contare su tantissimi gruppi che si curano della città. Ognuno si ritaglia il suo spazio, alcuni fanno proiezioni nei campi, si occupano di borseggi, di varie cose. Noi ultimamente ci occupiamo di gestione dei flussi.